Euro Regioni News Giovani italiani, piove governo ladro. In costante aumento l'età dei lavoratori. Nella pubblica amministrazione la media è di 50 anni, con incremento di 6 mesi ogni anno che passa. Molti giovani scappano all'estero conci di trovare un lavoro onesto e retribuito o nascondono la testa sotto la sabbia quando si parla di politica. Vivono e si divertono con i soldi dei genitori, mentre andare a votare per mandare al governo persone oneste con le idee chiare e si aspettano che lo facciano i pensionati, Governatrice Deborah Serracchiani, come fare per avvicinare i giovani alla politica? Questo è molto più complicato, insomma direi che c'è un problema di credibilità della politica che deve riconquistare il suo pubblico e dall'altro c'è anche un problema, questo qui molto serio, di una maggiore partecipazione dei ragazzi, delle ragazze alla vita politica perché poi la vita politica è il quotidiano. Molte delle scelte che facciamo quotidianamente sono delle scelte in qualche modo politiche, di politica in astratto. Essere informati e consapevoli è sempre utile, quindi cercare di avere di nuovo un buon rapporto all'interno di questa comunità è un rapporto che non può mancare. Da Udine per Euroregioni News, Marco Mascioli Euroregioni News Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.